E' stato localizzato nella notte dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento in una zona compresa tra la Valle dei Templi e il museo archeologico il corpo senza vita del turista tedesco ottantenne scomparso domenica verso mezzogiorno mentre stava visitando il giardino della Colimbetra. La causa del tragico decesso sarebbe stata accidentale, l'anziano sarebbe scivolato. Decine di soccorritori lo stavano cercando e i pompieri nella notte hanno fatto alzare in volo un drone con apparecchiature sofisticate per setacciare il territorio. Via terra invece in azione oltre ai vigili del fuoco gli agenti della Polizia di Stato e del Corpo Forestale e anche diverse squadre di volontari della protezione civile. A coordinare le ricerche sul posto il questore Tommaso Palumbo è il comandante provinciale dei vigili del fuoco calogero Barbera.